simona cozzi ciao elena volevo sapere se le borse fatte a mano quelle fatte bene da mani esperte si possono usare per look originali ti ringrazio ascolto sempre i tuoi consigli scusate mi intorto perché quando sono emozionata mi intorto va bene allora simona sì assolutamente soprattutto le pochette le borse piccole le borse a mano le borse da sera assolutamente sì se artigianali ecco le borse da giorno quelle a tracolla sono un po più difficili da indossare artigianali fatte a mano dipende poi anche dalla borsa ovviamente però io consiglio per questo tipo di borse artigianali poi d'estate regnano sovrane vanno anche di moda le vediamo anche in tutti i giornali di moda quindi assolutamente sì d'inverno è un po più difficile e d'inverno soprattutto le borsette da sera magari con qualche paillette qualche decoro carino qualche gioiello sopra quindi assolutamente sì lucia bonanno ciao elena che ne pensi di un cappotto color verde scuro e che sciarpa abbineresti mi sa che mi sono già pentita dell'acquisto grazie sempre per i tuoi preziosi consigli ma che un cappotto verde scuro è un ottimo acquisto assolutamente una bella sciarpa blu ecco il blu e il verde stanno benissimo e fanno anche subito natale fanno subito inverno guarda che belli gli abbinamenti ad esempio di megan markle lei l'ha indossato varie volte con una bella borsetta tracolla magari un pantalone blu che richiami la sciarpa ed è un look assolutamente azzeccato verde e blu prossimo elisabetta mega ciao elena io ho problemi con le scarpe non so mai quali possono essere eleganti quali diciamo non chic aiuto non amo i tacchi alti ma non posso andare sempre in giro con gli anfibi puoi darmi qualche consiglio sulle scarpe ti consiglio per non sbagliare gli stivaletti ankle boots quindi stivaletti neri o blu con tacco pieno punta o a punta o arrotondata queste sono scarpe che sono comode perché ci cammini anche tutto il giorno le ho su anche adesso queste per prendere l'idea danno comunque un look sempre un po sofisticato rispetto a una scarpa da tennis o un anfibio quindi queste sono veramente un passepartout puoi indossarle anche magari anche di altri colori con dei vestiti quindi anche degli stivaletti un po più alti è un'altra scarpa molto bella è una bella décolleté ne abbiamo viste tante nelle foto precedenti con un bel paio di collante e subito l'effetto è chic scarpe non chic mi hai detto quali sono sicuramente le scarpe con carro armato sotto la suola carro armato non sono molto chic anche se dipende dipende sempre dal design dal modello diciamo secondo me un esempio di scarpa non chic sono quelle scarpe che vanno tanto di moda negli ultimi anni per esempio molto voluminose molto grosse di balenziaga secondo me non sono per niente chic anzi anzi andiamo alla prossima domanda silvia ciao elena ti volevo chiedere se secondo te il reggiseno è un capo che è necessario per ogni donna oppure si può essere eleganti anche senza assolutamente il reggiseno va sempre indossato secondo me ovviamente ci sono diversi look che possiamo vedere online o nei giornali di moda che fanno vedere ad esempio un tailleur con una giacca per esempio a doppio petto senza niente sotto magari una donna che ha poco seno indossa questo look a detta di molti non volgare secondo me anche se non si vede il seno e questo scollo è così tanto ampio e una giacca senza niente sotto secondo me è un po volgare parere personale ovviamente rispondo alla tua domanda senza mancare di rispetto a chi lo fa ecco per me non è molto elegante quindi io consiglio anche se abbiamo un seno piccolo di indossare sempre un reggiseno perché è quel qualcosa che va a rendere completo e strutturato il look nella parte superiore a casa ovviamente facciamo quello che vogliamo ok prossima prossima domanda dunque cosa sto combinando ecco silvana romolo carissima per una serie di problemi legati alla sfera emotiva ho sempre indossato il colore nero premessa ho 50 anni ora sto molto bene voglio indossare i colori è tardi assolutamente no ma stai scherzando ecco e qui ci colleghiamo al discorso dei colori dell'armocromia questa parola nuova che va tanto di moda negli ultimi anni credo che il discorso dell'armocromia sia valido fino a un certo punto perché tante di noi anche inconsciamente indossano i colori che le attirano quindi se noi io per esempio mia sorella tende ad amare i colori scuri il nero non si vedrebbe mai con un tagliore bianco ecco è inutile che io le dica guarda che secondo me staresti bene ad esempio con il viola o con altri colori se lei non è attirata da questi colori si vestirà come le pare e quindi qui ci si ricollega se oggi a 50 anni a 40 30 60 70 agli anni che hai ti vuoi vestire di colori accesi fallo puoi essere chic anzi tante volte possiamo essere molto chic con colori accesi guardate ad esempio che bellissimo look rosso ha proposto recentemente kate middleton tutta rossa eppure non sembrava non so il gabibbo cioè stava molto bene quindi i colori assolutamente sì perché sono un po uno specchio della nostra mente un po come la casa e quindi se vi attira un colore sceglietevelo e indossatelo perché a volte anche inconsciamente alcuni colori sono terapeutici e quindi poi potremmo dedicare un video a questo argomento perché mi piace moltissimo e so che piace anche a voi ester oberti chiede ciao ele prima di tutto volevo dirti che ti stimo grazie poi volevo chiederti se riesci sempre a essere fedele a quello che dici e che pensi io a volte faccio fatica un abbraccio e grazie allora ester assolutamente domanda giusta molto sensata non è sempre possibile fare quello che si dice soprattutto in determinate situazioni ci sono fasi della nostra vita in cui non abbiamo non siamo concentrate su sugli obiettivi che dovremmo avere e siamo distratte da altro a volte succedono anche degli eventi inaspettati delle fasi buie della nostra vita e in quel momento io mi metterei in pausa non possiamo essere sempre perfette la perfezione non esiste possiamo cercare di raggiungerla ma dobbiamo avere l'impostazione mentale giusta e avere il focus davanti a noi e non sempre è possibile avere questo focus ci sono ad esempio delle giornate in cui io sono molto fuori fase per fortuna sono abbastanza rare ma ci sono ultimamente poi nel passato avevo delle giornate erano molto avvenivano di più di frequente poi dipende anche dalla qualità del sonno dipende da tanti fattori se siamo realizzate se siamo soddisfatte ecco una frase molto bella di opera winfrey che ho sentito di recente io ogni tanto guardo i suoi video motivazionali lei diceva noi siamo come una tazza se la tazza non è piena se siamo una tazza vuota un recipiente vuoto cosa possiamo dare agli altri prima dobbiamo riempire la nostra tazza per poter dare e quindi ricaricarci motivarci trovare il centro a livello quotidiano è fondamentale c'è chi lo fa con la religione io sono cresciuta nella religione c'è chi lo fa con la meditazione con la filosofia zen c'è chi semplicemente trova questa ispirazione nei propri genitori nei propri nonni o in un maestro di vita che non per forza è un nostro parente quindi cerchiamo di capire che se la nostra tazza è vuota non possiamo dare niente agli altri e non possiamo neanche lavorare per ottenere dei buoni risultati per raggiungere i nostri obiettivi prossima domanda credo che siano le prossime domande tre domande prese da instagram alice loretta melotto dice ciao elena mi consiglieresti gentilmente un correttore occhiaie valido o 35 anni maybelline cancella età secondo me è il migliore ottima qualità prezzo è un correttore strepitoso l'unica pecca potrebbe essere l'applicatore io ce l'ho lì ecco vedete io ci ho messo la carta di alluminio perché ho perso il tappino non perdete mai il tappino trasparente questo è un ottimo correttore la mia colorazione è 02 nude se avete una pelle simile alla mia così potete anche comprarlo online la spugnetta è un po rognosa perché rimane sempre umida però è veramente quando lo applicate è meraviglioso può fungere anche da fondotinta mettete solo quello e via strepitoso anche la coprenza ok prossima violetta bubble noto un gran cambiamento interiore hai fatto psicoterapia che percorso hai intrapreso ciao violetta a seguito del della morte di mio padre ho pensato di fare qualche seduta per digerire la dipartita la dipartita di mio padre che è avvenuta lo scorso 14 giugno ve l'ho detto su instagram e ho fatto qualche seduta forse ne ho fatte tre o quattro con un bravo psicologo qui a firenze sono stata felice di aver fatto queste sedute perché avere sempre un parere di una persona esterna a te e poi preparata è il più bello investimento che voi possiate fare per voi stesse io credo che tutte le persone al mondo abbiano bisogno ogni tanto di fare psicoterapia il più bello investimento meglio di un cappotto nuovo meglio di una borsa firmata ogni tanto fatelo quando sentite che siete in una fase della vita in cui state andando giù siccome è molto pericoloso andare troppo giù io vi consiglio ogni tanto ma anche ogni che ne so ogni 5 anni ogni 10 dipende da come state da come vi sentite prima della dipartita di mio padre no ero già cambiata ma è la vita che mi ha insegnato tanto sono maturata molto in questi dieci anni di youtube mi vedo anche dai video vecchi si è la vita che mi ha fatto anche un po da psicologo ok prossima domanda quali sono gli indispensabili in casa chiede care roll qualità tessuti marche migliori porcellane allora porcellane io adoro meissen non so se si pronuncia così questa è l'ultima domanda tra l'altro un dulcis in fundo ecco se voi cercate su instagram e questa è una casa molto molto antica di porcellane e fa delle cose meravigliose guardate che sciccheria questa tazza col dragone è qualcosa di stupendo quindi loro mi piacciono molto ma ci sono tante case ottime che fanno porcellane adoro anche le porcellane i servizi da te inglesi burly burly si scrive io adoro quel servito da te che aveva megan markle quando ha fatto quel video è tipo questo ma sul rosino è il mio preferito con questi toni neutri quelli troppo blu sparati non mi piacciono tanto parlando invece di toscana adoro 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 le ceramiche le insalatiere quelle tradizionali con tutti i puntini verdi sono bellissime anche le pirofile mi piacciono tantissimo una cosa da avere secondo me per la primavera estate per la camera da letto sono le lenzuola in vual di cotone che è un velo è una coccola è ancora più comodo del della seta secondo me io le presi da dreaming 101 che è questa azienda italiana bene ragazze io a questo punto ho finito spero che non il video non sia venuto troppo lungo in ogni caso potete cliccare sui numerini giù nel box informazioni sotto questa finestra video per andare alla domanda preferita intanto anche il marito mi chiama io vi ringrazio per aver guardato il video fino a qui vi ringrazio soprattutto per le vostre domande a questo punto io vi rimando al prossimo video grazie ancora alla prossima ciao